Incidente mortale poco dopo la mezzanotte di giovedì sulla superstrada tra il quartiere Cotone a Viareggio e Torre del Lago, dove un centauro è morto nello scontro con un'auto. La moto su cui viaggiava l'uomo, un 49enne di Torre del Lago, Marco Perazzino, sarebbe stata tamponata da dietro dall'auto. Una lancia Y condotta da un 23enne della provincia di Pisa, trovato positivo sia all'alcol che agli stupefacenti ed è stato arrestato e si trova ai domiciliari in attesa della convalida. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia, un'ambulanza della misericordia di Camaiore, l'automedica e la polizia municipale per i rilievi. Perazzino lavorava la ditta Ponzi, lascia la moglie Rita che lavora al supermercato Penny Market in via Pisano e due figli. La famiglia tornava da cena dai genitori, l'uomo era in sella alla moto Suzuki Stron 650, nell'urto con l'auto è stato sbalzato contro il guardrail e la moglie in auto. Non vedendolo tornare a casa gli ha telefonato ma non ricevendo risposta è tornata indietro sulla superstrada da Torre del Lago, purtroppo si è imbattuta nell'incidente in cui ha perso la vita il marito. Tragica coincidenza, dieci anni fa il fratello dell'uomo Matteo a 19 anni anche lui è morto in sella ad una moto tornando dalla rione Marco Polo in un incidente stradale avvenuto sul cavalcavia Barsacchia alla Migliarina via Reggio.